E' stufo di sentire continuamente parlare di cripto, blockchain, bitcoin e non capirci niente Lo so che non ne voglio imparare, lo so che sei pigro Ma c'hai un platform, su, ti scarichi l'app, ti fai un giro Impari qualcosa sulle cripte e quando sei pronto A questo è la tua prima criptovaluta Totale sicurezza Puoi iniziare anche solo con 20 euro Dai, su, forza, scarichati un platform Impara e poi compra No, perché dico, quindi non posso imparare e non comprare Cioè imparare e capire che non va bene Cioè imparare e capire che il 99.9% delle cripto, bitcoin escluso, sono spesso degli schemi ponzi E comunque anche bitcoin è a rischio, come dire Perché è fluttua, perché è volatile, perché il suo prezzo assomiglia un po' più a quello che potrebbe essere una scommessa Allora è questo che spiega con la piattaforma o insegna a comprarle? Perché è diverso Se insegna a comprarle e insegna a giocare e a scommettere sulle cripto E allora è certo che dopo quando hai finito ti hanno catechizzato Ma quello è catechismo Quello è catechizzare le persone su una roba Non è insegnare cosa c'è dietro quel mondo Sono due cose diverse E io sono un po' colpito da questo Perché soprattutto questi messaggi arrivano ai ragazzi giovani Brutto, molto brutto